Ben ritrovati a telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Preview. Finalmente l'attesa è finita, domani Lavellino tornerà in campo in una partita ufficiale, un match di campionato che la vedrà sfidare la Vis Artena. Lavellino è costretto a rincorrere perché come sapete in settimana invece l'Anusei ha giocato, ha giocato e vinto contro il Monterosi, una partita importante, si conferma ancora una volta prima della classe. Lavellino di Giovanni Bucaro dunque dovrà raccogliere la concentrazione, le idee, la formazione giusta e il coraggio per cercare di portare a casa i tre punti. Di questo e di tanto altro parleremo con il professore Franco Festa. Buonasera, buonasera. Professore, allora la sfida più importante che deve portare avanti Giovanni Bucaro è quella di mantenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi. Perché dopo 21 giorni di sostanziale inattività, lontani dal campionato e dal calcio giocato, la sfida maggiore è dunque quella di portare in campo dei ragazzi motivati e che abbiano ancora la testa ben calata nell'obiettivo finale del campionato, la vittoria del campionato, anche se sappiamo che al momento, nonostante la partita in meno, Lavellino dista dalla testa dieci punti, non pochi. Lei che è profondo conoscitore dei giovani tanto impegnati nel campionato di Serie D, ci dica come si fa a mantenere alta la concentrazione e cercare di calare nuovamente questi ragazzi in una partita ufficiale, obiettivo non semplice. Ha detto innanzitutto che 21 giorni sono davvero un'enormità, francamente queste cose possono capitare soltanto in Serie D, che è una lettera dell'alfabeto che spero non dimentichiamo al più presto, cercando di recuperare le lettere superiori, avendole tutte praticate, le lettere superiori, speriamo di poterle rimasticare al più presto possibile. La questione della concentrazione è una questione molto seria e importante, perché è una questione che riguarda una relazione di natura bionivoca, per usare un termine matematico, e cioè da una parte l'allenatore nei confronti ai calciatori deve tenere alta l'attenzione, ma anche la sensibilità umana e personale presso ognuno di loro, e dall'altra parte il giocatore deve avere la sensibilità e l'attenzione alle parole dell'allenatore, dimenticando alcune volte il carattere, diciamo, tra virgolette mercenario del proprio, ma sentendo molto lo spirito, la necessità del momento, la gravità del momento. Sono tutte caratteristiche molto delicate e noi ci auguriamo che sia da parte di Bucaro che da parte dei calciatori ci sia questa sensibilità e questa attenzione, diciamo quella volontà di orgoglio che forse, ma non voglio anticipare nessun discorso, è la caratteristica fondamentale che in molti momenti è mancata all'Avellino. Soprattutto nella parte iniziale di questa stagione, quando probabilmente i calciatori ancora non si erano calati bene in questa realtà e mentalizzati nella realtà della Serie D, forse è stato l'ostacolo maggiore, al di là di tutte le caratteristiche tecniche ed atletiche che può avere questa stagione. Bucaro ha avuto, come dicevamo, un compito complesso in queste settimane, quello di mantenere alta l'attenzione. Il campionato nel frattempo c'è stato, il Lanusei ha vinto, la classifica l'ha allungata, perché la testa la conquista sempre di più, a suon di gol anche all'ultimo minuto, come sappiamo. Questa è la classifica, questo è innanzitutto il turno, grazie alla regia, perché ci fa vedere che oggi si è giocato un anticipo, l'anticipo tra l'Upa-Roma. Torniamo alla schermata precedente, c'era l'anticipo di oggi con la classifica aggiornata, si è spostato nella parte bassa, perché la sfida tra l'Upa-Roma e la Dispoli è finita 1-1, quindi a vantaggio della Dispoli che conquista 30 punti e si sposta dalle parti caldissime della classifica nella parte bassa. Il Lanusei invece allunga a 69 punti, 59 per il Trastevere e per l'Avellino, che però ricordiamo hanno una partita in meno, come dicevamo a inizio della trasmissione, per la balorda regola della Serie D in merito al torneo di Viareggio, poi via via tutte le altre squadre che comunque incalzano e si proiettano alla lotta play-off. Dicevamo, professore, è stato praticamente quasi un mese, difficile e lungo. Buccaro lo sa, lo sa bene, ha cercato con degli amichevoli di tenere alto il morale e l'attenzione dei suoi calciatori, ma in conferenza stampa, proprio ieri, ha rivelato che non è stato certamente il suo, un compito semplice. Iniziamo a sentire cosa ha detto Buccaro. No, sicuramente la sosta è un po' troppo lunga, può nascondere delle insidie, ma non è detto. Noi ci siamo preparati bene, al di là del fatto che comunque è venuto a mancare l'adrenalina della gara domenicale, però siamo pronti. È detto il fatto delle tre partite, una settimana, diciamo che potrebbe nel bene e nel male anche decidere le sorti di un campionato. Noi in questo momento dobbiamo pensare a quello che facciamo noi, perché comunque l'avversario che in questo momento ci sta davanti sta facendo molto bene, quindi ci dobbiamo concentrare su di noi. Abbiamo anche in questo momento il dovere morale dei nostri confronti, della maglia che indossiamo di fare il massimo di qua alla fine. Però sicuramente la prossima settimana, da domenica, con l'Artena, saranno sette giorni importanti, molto importanti. In questo minutino di Bucano ci sono alcuni elementi da sottolineare. Alcune pratiche di autoconvincimento, la maglia, il valore ed altre cose, insomma, secondo me sono delle piccole bugie, cioè non dobbiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare solo a noi. Sono questi due punti importanti di questo discorso, professore. Innanzitutto, quel che io ho definito un po' un autoconvincimento sulla maglia, il valore, l'avellino, ormai siamo alla 32esima giornata, io credo che questi ragazzi lo abbiano capito dove giocano. Nelle conferenze stampa c'è sempre una certa retorica, un certo ripetere, non dico luoghi comuni, ma insomma delle affermazioni che certe volte sono un po' trite, ripetitive, sempre le stesse, che hanno un solo fine, nascondere la verità, oppure dare della verità una versione edulcorata, consolatoria, insomma, e credo che, come dire, questo è il compito dell'allenatore. Giustamente poi tocca ai giornalisti e agli spettatori più avveduti e cogliere, come lei ha fatto, i particolari, i punti critici della conversazione. Sì, io credo che l'elemento fondante della dichiarazione sia una notevole preoccupazione, che appunto si nasconde del fatto che noi dobbiamo pensare a noi stessi, tutto vero, però la verità è insomma, è un passaggio che lei già ha detto all'inizio, la verità è che noi scontiamo una pessima partenza. E questa è una cosa che non ho mai capito bene, cioè se arriva un presidente che, come dire, vince una gara tra diversi, investendo almeno nominalmente una notevole cifra, questo mi dava l'idea di qualcuno che avesse l'intenzione di fare immediatamente un'operazione forte. Invece abbiamo assistito nei primi quattro mesi ad un'operazione davvero sconcertante. Sembrava che ci stessimo preparando per il campionato di San Tommaso, non per vincere il campionato di Serie D. Trovare la mentalità giusta, far capire che noi siamo una squadra che ha ambizioni, orgoglio, è stata un'operazione molto faticosa. Credo che il vero limite di De Cesare sia stato questo, un atteggiamento rinunciatario rispetto a ciò che aveva di fronte. L'ha capito con grande lentezza, con grande ritardo, e noi siamo qui ancora a pagare quei ritardi. Mentre il Lanuseo è una squadra piantata, dritta, decisa, che ha una concezione di sé e dell'avversario molto, e vale sempre, vale dal primo momento del campionato a oggi. Sono assolutamente d'accordo, è stata una questione di mentalità. Esatto. Calarsi o meno, o forse c'è stato anche, suggerisco quest'altra chiave di lettura, un pizzico di presunzione nel credere che, essendo Lavellino e indossando quella maglia, gli avversari si sarebbero ritirati a far vincere la squadra più forte. Era vero esattamente il contrario, ed è l'abbiamo visto sempre, ogni domenica per gli altri è la domenica della vita, cioè contro vincere, pareggiare contro Lavellino, significa eternare negli annali di quella società il fatto abbiamo vinto contro Lavellino. Forse gli altri sapevano che cos'era Lavellino, noi per capire, per ricordarci, io non dimenticherò mai, non ricordo neppure il nome dell'allenatore precedente, il primo allenatore, come si chiamava? Graziani, assolutamente Graziani. Stranamente me lo sono dimenticato, quando feceva le terribili affermazioni sul fatto, vabbè ma la scordatevi, che sono state affermazioni che mi hanno proprio strabiliato, non perché noi viviamo di un orgoglio del passato, non siamo questo, ma noi siamo comunque la società che ha una storia forte, che ha una tradizione forte, è come dire, è come un figlio che nasce ora, e però dentro di sé già c'ha la pulizia, l'orgoglio, il senso civico del padre, dei suoi predecessori, dei suoi antenati, e così è questa squadra, non è che nasce dal nulla, ha dietro di sé una storia, e deve essere degna di quella storia. Ancora oggi, in modo stentato, noi abbiamo questa consapevolezza, e questo è quello che crea poi il disamore della città nei confronti della sua squadra, eppure la serie in cui sta, ma questo atteggiamento, come dire, che è un po' rassegnato, rinunciatario, che nasconde poi, non voglio anticipare nulla, anche un'altra cosa, una cosa che a me proprio mi sta male, tanto sapremo che ci recupereranno, tanto sapremo, ma questo è indegno, un atteggiamento mentale indegno, io sono felice se sono regolice, e sono, come dire, spero caldamente che ci accada, ma non si affronta un campionato con il presupposto, tanto poi saremo recuperati. Assolutamente, per entrare nella strada più semplice, senza magari combattere o dimostrare il proprio valore sul campo, come invece il Lanusei sta facendo, e sta facendo benissimo. Per cui la prima sfida che attende l'Avellino è quella di domani contro la Vistartena, attenzione, una partita solo apparentemente semplice, perché, come abbiamo detto, nasconde tante insidie, e soprattutto legate al fatto che l'Avellino potrebbe avere anche un po' fisiologico calo di concentrazione. Buccaro dunque dovrà anche un po' mischiare le carte, secondo me, secondo noi, per cercare di sorprendere gli avversari e magari dare nuovi stimoli a quei calciatori che sono stati un po' parcheggiati in panchina per scelta tecnica, uno su tutti, Ferdinando Sforzini, che si è detto pronto, insomma, a tornare in campo e dare il proprio contributo alla causa. Un altro passaggio simpatico in conferenza stampa a Buccaro l'ha fatto su un particolare dettaglio dello Stadio Partenio. Che cosa è accaduto, professore? Noi da tanto tempo che stiamo rivelando questa cosa. Si è scoperto che lo Stadio Partenio ha una linea laterale un po' storta. Per giocare la calciavellino SSD ha dovuto chiedere una deroga alla Lega Nazione di Lettanti, il comune di Avellino dalla sua si è impegnato a sanare questo problema e ovviamente Buccaro faceva notare, noi abbiamo giocato in campi che erano al limite della regolarità e della praticabilità, ci vengono a fare le pulci per una linea leggermente storta. Questo è uno dei paradossi della Serie D. Sentiamo Buccaro in questo passaggio davvero simpatico. Come dici tu, non dobbiamo fare polemica, però ho letto il fatto che abbiamo un problema delle righe, che chiede la deroga. Ragazzi, noi abbiamo giocato in dei campi che non sono neanche regalamentari per il campionato nazionale di Lettanti, adesso due righe in uno stadio come il nostro, in un campo sintetico di ultima generazione, chiedere la deroga per una riga che magari è un po' storta, mi ricollega al fatto tuo. Sicuramente, secondo me, andrebbero un po' cambiati in tutto, anche il fatto di chiedere il rinvio, alcune squadre l'hanno chiesto, alcune squadre no, noi siamo stati costretti a rinviare la partita. Bisognerebbe dare delle regole più precise e poi tutti si devono adeguare a quello. Tantisi ha maggior ragione perché sono due under, però dobbiamo fare di necessità virtù, soprattutto Carbonelli ha riprovato la prossima settimana a forzare un po' e soffre sempre di questo problema che ha muscolare, non so se riusciremo da qui alla fine del campionato a recuperarlo. La stessa cosa Rizzo, che non si riesce, ora stava facendo altre visite per capire questa infiammazione, se la riusciamo a far passare o no, però in questo momento sono due giocatori che non abbiamo, sono due under e quindi qualcosina anche in vista dalle partite ravvicinate ti danno qualche problemina, però dobbiamo andare avanti, siamo in tanti, abbiamo anche qualche ragazzo nel caso della Juniors che ci può dare una mano e dobbiamo fare di necessità virtù. Doni soffre di questa infiammazione al pub, che è una cosa che ti può passare da un momento all'altro, però in questo momento non sta al 100%, ora in base alle tre partite vedremo se per domenica farà parte di noi o cercheremo di dargli ancora qualche giorno di riposo per poterlo recuperare mercoledì. Noi sicuramente abbiamo le due soluzioni in testa, però andremo avanti con quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, anche perché abbiamo un po' anche davanti recuperato un po' tutti e possiamo giocare in questa maniera, è normale che poi alla fine lo fa la differenza, l'atteggiamento e come stiamo in campo. Siamo in chiusura di prima parte, professore, è evidente, Buccaro pensa pochissimo a come mettere in campo i suoi, sappiamo che con buona probabilità schiererà il suo classico 4-4-2 a cui ci ha abituato negli ultimi tempi, ma la cosa più importante è capire come la squadra approccerà questa partita, non c'è null'altro da dire. E questo è il punto dei punti e siamo sempre allo stesso, come dire, ritorniamo al ragionamento iniziale. Molti dicono che in questo momento non abbiamo come organico, il miglior organico del campionato, ma non serve molto che noi abbiamo individualità straordinarie, se noi non riusciamo ancora, e questo è ancora un elemento di fatica, a dare una misura organica della squadra, poi c'è stato questo terribile ritardo, rinvio di 20-21 giorni e quindi ci sono elementi, insomma noi non abbiamo ancora la consapevolezza certa che domani sarà una passeggiata, fino alla fine non abbiamo nessuna certezza ed è proprio questa mancanza di certezza in qualche modo che ci condiziona e ci crea ancora una certa ansia. Non credo che sia soltanto il problema dei sette punti, dei dieci, speriamo che diventino sette immediatamente domani e bella consolazione, ma c'è anche un problema che riguarda noi, il nostro modo di essere e credo che il tempo ormai sia breve per effettuare cambi totali e per ribaltare la situazione, tutto può accadere, ma non perché sia pessimista, ma insomma la vedo molto molto difficile, anche perché il Lanusei continua ad essere una macchina della guerra, ben piantata, organicamente. Ed ha anche tanta fortuna, diciamo la verità, che non guasta. Certamente, ma lei mi insegna che questo è l'elemento, la fortuna veramente assiste agli audaci, come sul dirsi in un luogo, ma non è un luogo comune, è proprio la verità. Allora noi siamo in chiusura di prima parte, ma dopo la pubblicità vi facciamo vedere delle cose davvero carine che sono accadute ieri e che riguardano l'Avellino e il Centro d'Aprea, tra poco.